benvenuti benvenuti cari amici siamo ubbili di questo nuovo video naturalmente come sempre ricordo di distruggere il canale e iscrivervi anche il canale telegram oggi andiamo a parlare di bitcoin ma non solo anche cardano ftx taraluna e infine shiba inu per cui iniziamo subito da questo articolo perché wealth argo si chiede è troppo tardi per investire in bitcoin assolutamente no siamo appena all'inizio di quella che sarà una vera e proprio rivoluzione digitale ma non solo anche in ambito economico infatti se andiamo a vedere sostanzialmente questo report redatto proprio da wealth fargo che cosa ci dicono che bitcoin e criptovalute sono come internet circa nel 1995 andremo a vedere dopo quella che è stata la curva d'adozione di internet ma non solo anche di tantissimi altri asset e guardate qui quanto è cresciuto bitcoin annualmente nel corso del tempo circa il 216 per cento all'anno considerando l'interesse composto ok che è un motore ok di ricchezza potete capire guardate qui numero quanto dal 2010 bitcoin è cresciuto e quanti nuovi milionari esso ha creato e quanti ancora ne deve creare ricordiamolo quanti ancora ne deve creare se noi andiamo a fare un paragone ok con quelli che sono altri strumenti utilizzati nel corso del tempo guardate qui ad esempio la radio quanto ci è voluto la sua adozione di massa circa 40 anni quanto ad esempio ci è voluto per l'elettricità ad esempio 50 anni 70 anni però vediamo come negli ultimi tempi diciamo l'adozione è sempre stata più veloce perché viviamo in un mondo che è sempre più veloce quindi le criptovalute siamo appena qui e dobbiamo ancora farci questo bel skyrocket ok nella curva della tecnologia quindi attenzione perché secondo me le cripto nel giro di qualche anno diventeranno di mass adoption e naturalmente saremo tutti dei millionaire ok non so se voi sarete i millionaire ma io mi sento già milionario ok sostanzialmente non voglio essere arrogante però se voi avete la visione avete l'idea raggiungete l'obiettivo detto questo la russia andrà a regolamentare il mondo delle criptovalute sostanzialmente il ban ok verrà rimosso questo è quello che ci dicono all'interno di quest'articolo è per cui sembra che tutto stia convergendo verso l'esplosione ok di bitcoin io come sempre vi dico me lo vede a 100 mila dollari ok sostanzialmente circa entro maggio vedremo se andremo a chiudere la ciclica annuale in questo momento siamo a 44 mila e 300 dollari usciamo dalla zona verde per quanto riguarda la btc dog curves e secondo me il prossimo movimento che sarà rialzista bello rialzista e andremo a addirittura a breccare quello che sarà rialzista secondo i miei calcoli secondo i miei calcoli naturalmente non sono né consigli finanziari né consigli trading dovrebbe arrivare entro fine maggio vedremo se questo succederà se dovesse succedere bene sono felice per voi se non dovesse succedere sono altrettanto felice per voi detto questo andiamo a vedere un attimo cardano perché raggiunge una nuova pietra miliare 30 milioni di transazioni su cardano e le transazioni stanno aumentando sensibilmente pensate all 11 gennaio erano le totali ok 26 milioni ora su cardano siamo arrivati a 30 milioni di transazioni questo ci fa capire come cardano potrebbe essere un'altra coin di mass adoption in futuro e di conseguenza andiamo a vederci quella collection perché in questo momento cardano è fermo che sostanzialmente sta accumulando e attenzione perché quando cardano accumula quando cardano inizia questi piccoli movimenti tendenzialmente poi va a fare scale rockets guardate qui ad esempio qui c'era stato un primo movimento 1 movimento 2 e il prossimo movimento 3 potrebbe essere di questo tipo ok quindi andremo a vedere se in futuro avverrà però secondo me cardano comunque va tendenzialmente a costruire queste parabole e potrebbe in seguito costruire un'altra parabola mantiene sempre questo supporto su un dollaro per cui vedremo che se in futuro questo avverrà secondo me molto ma molto interessante altra notizia molto interessante è quella di ftx che ha integrato arbitrum sappiamo come tutti ok di solito quando investono negli exchange investono su binance investono su crypto.com però secondo me ftx è ancora fortemente sottovalutato quindi grazie a integrazione in questo layer 2 potrebbe davvero fare cose importanti e vi ricordo anche quella che è stata la crescita di ftx nel corso del tempo soprattutto utilizzato negli stati uniti d'america oltre naturalmente ad arbitrum vi vorrei anche indirizzare verso questo altro layer 2 che sta crescendo davvero tanto che metis andromeda vedremo quali dei due sostanzialmente in futuro acquisirà tutto il controllo della rete di ethereum ora notizia molto importante quella che riguarda anche terraluna perché ha siglato un accordo di cinque anni con i washington nationals quindi questa squadra di baseball e naturalmente terraluna che sta continuando a sviluppare il suo ecosistema al momento il prezzo di 56 dollari su terraluna ci sono comunque pareti contrastanti c'è chi la sostiene c'è chi dice che terraluna andrà a fallire secondo me è un grandissimo progetto che continuerà a esistere ed esisterà non dico perdure la vita però secondo me può avere veramente un futuro radioso al momento siamo proprio sul supporto dei 56 dollari quindi attenzione a terraluna perché potrebbe essere un'ottima occasione di buy naturalmente come sempre lo sono nei corsi finanziari nei corsi di trading vi ricordo che le altcoin sono fortemente volatili quindi psicologicamente non per tutti altra notizia molto importante quella che riguarda blackrock perché sta pianificando che di offrire cripto all'interno dei suoi servizi naturalmente questo è uno dei più grandi hedge fund al mondo essenzialmente più grande hedge fund degli stati uniti america se non uno dei più grandi per cui naturalmente la massa adottione delle criptovalute sta arrivando in ogni dove ora andiamo a vedere shiba inu perché come voi sapete io ho parlato di questo dump che poteva arrivare al meno 80 per cento qua c'è un bel compra qua c'è un bel vendi ad esempio e quindi come bisogna ragionare su shib se voi ci credete quando ci sono questi profondi dump ovviamente io accumulo ok shiba inu mari vado a scaricare qualcosina ovviamente in salita perché giusto così mari vado a fare un po' di take profit in questo momento l'azione di shib è bella mi ricorda un po' i tempi di ottobre in cui hanno andato a lateralizzare potremmo avere nuovamente una lateralizzazione ma secondo me poi prenderemo e andremo su questa è essenzialmente la mia idea su shiba inu vorrei vedere anche con voi quella che è la crypto total market cap stiamo tenendo i 2 trillions vediamo se li teniamo ovviamente se andremo a rompere i 2 trillions siamo fortemente bullish in questo momento che cosa sembra stia avvenendo abbiamo il supporto da trendline discendente ok di lungo sembra che abbiamo il supporto per cui attenzione perché secondo me presto tutto l'ecosistema e criptovalute ok andrà a fare un bel skyrocket secondo me a comandare sarà sempre bitcoin per cui avremo sostanzialmente una bitcoin dominance che andrà a crescere al momento la bitcoin dominance sta lateralizzando però secondo me è presto potremmo vedere un movimento di questo tipo infine andiamo a vedere anche l'alcoindex naturalmente stiamo a 43 stiamo sostanzialmente tenendo la zona 30-40 secondo me è imminente una bitcoin season voglio vederla assolutamente nel caso vedessi una bitcoin season poi di conseguenza cercherò che di giostrarmi sulle altcoin per cui se ti è piaciuto questo video ti ricordo di suggerire il like e iscrivete il canale e ci vediamo presto attualmente vi ricordo anche i servizi che offro io se volete una lezione individuale di 30 minuti il costo è di 25 euro e in più potete abbonarvi sia al gruppo elite se volete con un costo di 50 euro e gruppo premium al costo di 24 euro per cui vi ricordo di suggerire il botone di like iscrivetevi al canale e ci vediamo presto ciao